Coach Tunno Catanzaro questa sera è partito un po' in difficoltà, poi forse la tua mossa di alternare più uomini su Murolo si è rivelata decisiva? Sicuramente Murolo era partito forte perché aveva fatto otto punti, due canesti da tre punti, un altro canesto da due punti ci stava creando delle difficoltà ma anche su Smorra abbiamo fatto un lavoro abbastanza attento, è stato bravoriccio in quelle situazioni ad avere lo spazio e a fare canesti pesanti e a tenerli a gallo. Catanzaro quindi che si riprende dopo le due sconfitte consecutive, quanto è importante per il morale di una squadra così giovane una vittoria? E' chiaro che è sempre importante vincere specialmente per una squadra come la nostra che è in continua crescita con tanti giovani, siamo alla ricerca di un equilibrio, vogliamo diventare squadra, ancora non lo siamo, ci sono dei momenti che facciamo delle buone cose nel campo, ci sono altri momenti che invece spegniamo la luce e rimettiamo in campo l'avversario. Però penso che sia normale dopo quattro partite di campionato, intanto oggi abbiamo fatto altri due punti e in questo momento è quello che conta, poi da martedì riprendere a lavorare perché abbiamo tanto da fare. Una delle caratteristiche di Catanzaro di questi anni è stata quella di avere sempre almeno due lunghi, uno o due lunghi di esperienza, quest'anno si è fatta questa scelta di scegliere appunto tre, quattro giovani, come valuti quest'inizio campionato della batteria di lunghi di Catanzaro? Sono tutti ragazzi che hanno giocato poco in questi anni e quindi hanno bisogno di trovare il giusto spazio che chiaramente devono guadagnarsi perché non c'è niente di regalato. Biordi da questo punto di vista sicuramente è un po' più avanti, Picchi e Botteghi si stanno sforzando ma sarà importante che iniziano a dare un apporto ancora più importante. oggi già Botteghi ha fatto un passo avanti rispetto alla settimana, alla partita precedente ma ripeto abbiamo tante cose da migliorare e sicuramente l'impatto dei lunghi nella partita è una cosa che non possiamo sottovalutare. Nicolás Morici ritorni dall'Argentina e fai questa prestazione importante, 24 punti, 8 rimbalzi, insomma sei tornato? Sì sono tornato, i numeri individuali non sono assolutamente importanti, l'importante è che dopo due sconfitte, una con me e una senza di me che non cambia nulla e siamo tornati a vincere e ora pensiamo alla prossima partita. Ottima reazione di Catanzaro, adesso ci sono due partite importanti ravvicinate tra l'altro Roma e Valmontone. Come vanno affrontate? Sì, certamente dobbiamo pensare una alla volta, prossima domenica a Roma contro la Tiber è una squadra che ci può mettere in problemi perché è come noi, quindi dobbiamo pensare soltanto a quella e dopo quella partita pensiamo magari al Valmontone giovedì e ultimamente all'Estella Sur a sabato a Roma. Nonostante le sirene provenienti dalle altre squadre sei rimasto a Catanzaro, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Voglio far vedere che in questo livello ci sto, lungo tutto un campionato e poi con la squadra voglio di nuovo arrivare ai playoff e provare a superare questo turno che due volte che l'ho fatto non sono mai riuscito. Siamo con Fabio Riccio dell'Isernia, un Riccio un po' contrariato dopo che è stato espulso per un tecnico antisportivo. Sì, vabbè, non voglio parlare comunque delle scelte arbitrari, io penso conoscendo i miei compagni di squadra che non siamo proprio scesi in campo stasera, meritata la vittoria di Catanzaro, demeriti molti, moltissimi demeriti nostri, è stata una non partita insomma, c'è poco da dire, non siamo scesi proprio in campo. Quarta sconfitta consecutiva, un morale un po' a terra, però adesso c'è Patti, uno scontro diretto importante che dovete vincere. Sì, domenica giochiamo contro Patti in casa, speriamo di sbloccarci, è una partita da vincere a tutti i costi per smuovere un po' la classifica, nella nostra è una squadra giovane, molto morale, nel bene e nel male. Speriamo di fare una bella partita e di giocare a palla a canistro domenica prossima. Catanzaro come l'hai visto, dove potrà arrivare? Catanzaro è una buona squadra, noi abbiamo preparato la partita su alcuni giocatori molto molto bravi e purtroppo non siamo riusciti a limitarli.